Sorma si chiama Yannine e non so vuole fare un vaccino. E' un marito che si chiama Votocci. E' un'alda capo di ciocci. Ha stato come un'alda da aspettare. E ora dice che non so vuole fare. Dicono che si prendono paura, che già potremo delle dolore. Che quando poi si facciano l'analisi, già va a prendere tutta la paralisi. L'infarto al cuore, diabete, leucemia, che quasi quasi è mica la pandemia. La malattia al reino, il reumatismo, il sciocco, il tramonto e il cataclismo. Ma devono essere sordi, molto ciocchi. La capa rotta, il cervello scattato. Diretti alla schiena vanno a ciocci. Alla masca non avalza il palo. La femmina va a perdere la capida. E' un gatto già va a crescere la pesida. E per la varvambaccia va a spandare. Io la mattina curassi l'anataggiant. Insomma, con il capo di vaccino, va da fatica a pregare morti alla becchina. E allora? S'ha guardata la frattata. Tutti sti mesi hanno fatto la mascherata. La mascherina insaccata sopra la mossa. Ma io pesce un vaccino o un virus? Ma voi sapete che io mi chiamo Groc. E cevo decenni che il virus non mi tocco. E frate mi si chiama Giovanna. E la mascherina se la mette in ganna. E Walda che si chiama Cicilla. Laius, perché mi ghiassa il tonzillo. E siamo stati tutti ricoverati. Con la paura e il cuore scattato. Ma amore, il professore licenziato. Finalmente il vaccino l'anataggiant. E pur che stanno il negazionista. Io già sto in brice, insisto, insisto. E sto felice che gli ha fatto il vaccino. Cos'è un regalo di Gesù bambino.